Valeria Patrizia Livigni, direttore Museo Riso, ci troviamo all'albergo delle povere e cosa accade in questi giorni, in questo periodo? Il Museo di Palazzo Riso ha organizzato una mostra, un'antologica su questo artista eclettico Michele Cossiro e il percorso è proprio un percorso avvincente che attrae il visitatore inserendolo immediatamente in una undercamer dove sono esposti i gioielli che Cossiro fa, realizza con una tecnica abbastanza antica, quella della cera persa, gioielli che trasmettono, sono dei gioielli di scultura che trasmettono veramente la forza degli elementi della natura, la forza di questa musa ispiratrice che è la sua isola natia di Pantelleria e dove le perle, i coralli ma anche la lava, la forza della natura, del vento, del mare sono costantemente riprodotte in queste splendide sculture che poi si riprende diciamo anche nel percorso che dagli anni 60 fino ad oggi è la visita della mostra, una visita che attrae appunto il fruitore per questa varietà di oggetti, per queste nasse, per queste carene delle navi, ma anche per queste piogge cosmiche o il magma che è imperversa, che è un poco diciamo la forza vulcanica della sua musa ispiratrice, della sua isola, fino ad arrivare a una conclusione in una camera oscura dove sono esposti i buchi neri e dove il visitatore materialmente entra in questa stanza ed è come un salto nell'universo, nel buio cosmico illuminato da queste sculture con materiali vitri, con fiammeggiamenti di rosso ma anche di azzurro quindi è un percorso veramente eccezionale Facciamo un salto e parliamo di donne che si occupano di arte e nel suo caso dirigono un museo quanto è facile e quanto è difficile occuparsi di questo? Sicuramente il Museo Riso, a differenza di altri musei che ho diretto, è un museo molto dinamico a contatto con la realtà dei giovani, infatti il Museo Riso ha anche uno strumento importante per i giovani artisti che è questo archivio del SACS dove i giovani artisti si iscrivono, vengono selezionati da una commissione ad hoc e hanno la possibilità, se selezionati, di essere inviati in residenze, di poter fare esperienze a contatto con curatori internazionali produrre opere e realizzare qualcosa che fa parte di un percorso induttivo quindi è importante l'attività che svolge e vogliamo dare proprio un segno particolare a questo museo proprio tra breve avremo la mostra con le residenze che i nostri giovani hanno fatto alla Fondazione Merckx sempre tra breve dovremmo realizzare la mostra su Emilio Sgros, Guccione quindi abbiamo Guccione e la scuola di Scicli quindi diciamo abbiamo in mente proprio di portare questi grandi nomi della nostra arte contemporanea ma senza mai trascurare il contatto con i giovani artisti Per concludere, la Sicilia è l'arte in una battuta, in una frase, come si può esprimere? Una Sicilia creativa perché sicuramente il museo ha questa funzione di creare cultura, di essere un laboratorio, di essere attivo e secondo me il Museo Riso riesce pienamente a essere un museo che crea Grazie a tutti